Presentiamo un'imbarcazione open di 5,70 m, la tipica imbarcazione di iniziazione per la nautica, per i naviganti. È un'imbarcazione che misura 5,70 m, larga 2,0 m, monta una motorizzazione base di 40 CV fino a 115 CV, una portata di 7 persone, un prendisole davanti di prua e un prendisole anche di poppa componibile. Ha la possibilità di navigare con 40 CV, con 7 persone a bordo, con una velocità di circa 27 miglia. Questa abbraccia una fascia di chi vuole fare camper nautico e vuole passare anche un weekend a mare con la famigliola, perché ha la possibilità di una cucetta con un bagno, cucinino, frigo, lavello. Una peculiarità di questa imbarcazione è che con un 175 CV riesce a fare 34 miglia, a consumi molto bassi. A 20 nodi riesce a consumare 22 litri d'ora. Molto comoda la cucetta, molto comodo il bagno, molto comoda a livello di gavoni. Ha una marea di gavoni, permette di nascondere tutto quello che serve a 9 persone, i bagagli, la dotazione di bordo, senza avere nulla in mezzo ai piedi. Un grande prendisole di prua, la possibilità di avere un grande prendisole di poppa e una grandissima copertura con l'estensione dei tendalini anteriore e posteriore. Grazie.